Bella raga, oggi andiamo a reagire a Arti5, ultimamente me lo state chiedendo molto, non l'ho mai sentito Arti5, ma sta facendo delle belle views, appena fatto una ricerca, non mi ricordo più, scusatemi, ho letto il commento che volevate che reagivo alla sua canzone, ma non mi ricordo più qual era, non trovo più il commento, ho provato a cercare, ma è finito lì nella pila tra gli altri e me lo son perso, quindi ho deciso... Anna mi piace, Anna mi piace, quindi andiamo a reagire alla canzone che ha fatto con Anna, Anelli e Collane, let's go! Si basso... Uh, senti che beat, senti che beat! Ma perché ha la voce uguale a Marrakesh? Ha la voce identica a Marrakesh! Ok! Mamma mia! No, vabbè, 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 no, tanta roba, tanta roba Anna, eh, tanta roba Anna, c'è un flow che è una follia, ma qui sembra tipo... Con questo cappellino in testa, sei proprio una inuit, eh? Ok! Mamma mia! Ok! Mamma mia! Oh mio Dio! C'è un po' nel mondo americano questa cosa che i neri sono fissati col pollo, soprattutto con le alette di pollo! Più della figa, amo l'odore delle alette fritte! Ma fa ridere, fa ridere, soprattutto nel italiano fa ridere, dai! Sfuto barre calde appena fritte, e più della figa, amo il profumo delle alette fritte, è proprio figa, sembra nata per curare i figli, uso il filtro della sizza, fumo con i marocchini, quando la scopo morde con la bocca gli orecchini, ti tolgo i vestiti come sbuccio mandarino, se no i preservativi, in Italia vanno in cerca del mandingo, se grida troppo, dono schiaffo educativo! Quando non lo sanno fare, posso non solo copiarmi, ma non sono ancora... Ah! Bastardi! Maledetti! Ho visto adesso! KFC! KFC! Pubblicità! Beh, neanche tanto occulta in realtà! Oh mio Dio! Perché non lo apro una biella al KFC? A me piace troppo, cioè, KFC è una figata assurda e il pollo fritto, mi fa sempre venire un po' di mal di stomaco, perché ogni volta che ci vado, piglio sempre quella salsa piccante che il giorno dopo poi mi dà dei problemi, diciamo, però KFC è una figata, è buonissimo, cara! Grida troppo, dono schiaffo educativo! Ok! Ok! pure tua nonna diceva sono la più bella, bambine che ballano sembra una baby death, non voglio tu il baby death, per me sei più pre di te dentro e fuori Fabrizio Corona, fumolante, non ha togliota corolla, mette collane in corallo, suo quadro è dato disperso, porto le tipe in bicocca così vedono l'inferno Porto rega, sto spezia, non sanno da dove vengo, sguardo da fototessere in verbi verso Ah spezia, è di la spezia lei, ok non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, pensavo fosse di Milano per qualche strano motivo, boh, non lo so Quindi lui, bicocca, bicocca, sì Milano ovviamente, c'è l'università, e lei di la spezia, ok non lo sapevo che era Ligure Porto rega, sto spezia, non sanno da dove vengo, sguardo da fototessere in verbi bastate al freddo, vetti per entrare e metti una bandana in redda al nec, portami dieci tipe del tuo ghetto E lo mostro paradiso, baby viene e tocca al cielo, fa un provino e vediamo se ci sta tutto, nati per regnare come la famiglia Wins, tocca a Nina, scoppi come un ordine Bello il video, bello il video, mi è piaciuto, e anche la canzone Molto bello Mi ha ricordato molto quei video R&B, primi anni 2000 Anna mi ricorda assolutamente anche cosa, come si chiama, l'umidi, quella che cantava Oh 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 Un po' mi ricorda, eh, ci assomiglia un pochettino se ci fate un po' di attenzione Video molto bello, eh, visto? Senza armi, senza stronzate varie, tutti lì a divertirsi, fare breakdance, tutti vestiti larghi, divertendosi Molto bello, molto bello, molto bello, mi piace questa cosa, eh Arty5, una bella scoperta, una bella scoperta, dobbiamo reagire assolutamente ad altre canzoni sue e anche di Anna, non so se ha fatto uscire qualcos'altro Sto reagendo quasi solo al freestyle, amo il freestyle, però amo anche il rap, quindi voglio anche reagire a cose sia nuove che magari un po' più datate, se non le conosco assolutamente E nulla, dai, spero che vi siate divertiti con la mia reaction, fatemi sapere cos'altro volete vedere nel canale e ci vediamo alla prossima, ciao!